Noi prendiamo in maniera molto seria le richieste del Consiglio Comunale, in questo caso dell'opposizione che voleva fare il punto sull'attuazione del programma, sono intervenuti tutti gli assessori chiaramente in modo sintetico perché è sembrato un tempo lungo ma in realtà è un tempo breve se consideriamo tutte le cose che sono state fatte in questo anno e mezzo, io avrei concluso gli interventi dell'amministrazione con la mia relazione, poi l'opposizione ha chiesto invece un rinvio per ascoltare il mio intervento nella prossima seduta e poi l'apertura del dibattito attraverso gli interventi dei consiglieri che riterranno di dire la loro, quindi è un momento di confronto importante in cui maggioranza e opposizione si confrontano, ne possono venire fuori anche idee per rafforzare il programma della nostra amministrazione, tante cose sono state fatte in questo anno e mezzo e tante ancora se ne devono fare, quindi questo 2018 si è aperto all'insegna di un lavoro importante che stiamo mettendo in campo per attuare tutto il nostro programma.